E allora, dovete iniziare ad abituarvi, perché? Perché noi andiamo in giro. Noi andiamo anche in giro e tra poco... Ma che è? Sembra una pazza. Non fa sembrare, sembra una leonessa. Ma io di fondo lo so... No, infatti, allora, ricordiamo l'appuntamento tutte le mattine alle 9. Sì, sul nostro canale YouTube CF Recensioni e sulla pagina Facebook CF Recensioni, in diretta. Sì, 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 in diretta. Guarda chi c'è. Allora, c'è una nostra... Ti possiamo riprendere? Questo andrà su YouTube, però. Ti possiamo riprendere? Eccola lì, ciao! Ciao! Ok, ci vediamo più tardi. A dopo! Quindi, dalla settimana prossima cosa facciamo? Usciamo fuori dallo studio e iniziamo a girare per Napoli, a visitare Napoli e a farvi vedere tante cose bellissime e interessanti della nostra città. Seguiteci, seguiteci e continuate, già l'ho detto, a seguirci. A presto!